www.manuelcant.it il sito raccomandato dell'eleking tv per i prossimi acquisti di card e figurine link in descrizione ragazzuoli ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti sull'eleking tv e con questo nuovo video in cui andremo a spacchettare ragazzi questo tin box platinum 2021 l'abbiamo aperto anche l'anno scorso è uscito anche quest'anno cosa contiene questo box speciale platinum contiene ben 25 card 15 card tempi supplementari più 10 card platinum l'anno scorso le card platinum erano relative ai giocatori con più anni di presenza sulle atrena lì se non sbaglio era proprio dedicato a questi calciatori quest'anno dovrebbe essere dedicato ai calciatori che possono giocare in più ruoli ok ragazzi qui poi c'è scritto gioca online il tin box costa 6 euro e 99 si trova in eticola è già in commercio da qualche giorno quindi dovreste trovarlo senza problemi allora come vedete la confezione c'è sempre la confezione in cartone come il tin box di quest'anno eccolo qua leviamo via il cartone questo è il tin box platinum adesso ragazzi prima di aprirlo vorrei farvi vedere quello è l'anno scorso questo è quello dell'anno scorso ecco qui questa è la differenza adesso non vorrei aver sbagliato con quello di due anni fa come è successo con il tin box normale però questo se non sbaglio dovrebbe essere quello dell'anno scorso in cui anche perché soltanto l'anno scorso ho preso le platinum e questo è il tin box dell'anno scorso ragazzi eccolo qua e questo è quello di quest'anno c'erano sempre 10 card platinum come quest'anno allora lo apriamo troviamo la bustina trasparente che contiene le nostre carte andiamo ad aprire andiamo anche a leggere questo foglietto per riuscire a capire cosa c'è scritto allora prima di vedere le card andiamo a leggere quest'anno grande regalo di adrenalin sono le 10 card platinum che hanno come protagonisti giocatori della grande utilità tattica che possono ricoprire diverse posizioni sul campo di gioco quindi come vi dicevo quest'anno le card platinum vanno a quei calciatori che possono giocare in più ruoli e protagonisti delle card platinum hanno gli stessi valori della base card di riferimento già pubblica da raccolta ma il vantaggio sarà quello di poterli schierare sul game board in un ruolo alternativo quindi l'unico vantaggio è quello che possiamo metterle in un ruolo alternativo di quello che c'è sulla card base tutte le card della sezione speciale platinum hanno la lettera b in aggiunta al numero di riferimento le potrai collocare all'interno del corrido e nello stesso spazio della base card del giocatore rappresentato sono card esclusivi che trovi soltanto qui ok ragazzi come spiegazioni penso che sia stata più che utile qui ti dice cosa contiene la team box ma l'abbiamo già visto allora prima platinum è petro eccolo qua grande petro devo dire sono molto molto belle quest'anno queste platinum hanno queste queste lucette di riflesso bellissime bellissime culo seschi della juventus poi abbiamo quadrato sempre della juventus teo hernandez demme del napoli achimi dell'inter gosens dell'atalanta liberi della fiorentina verdi del torino e luis alberto della lazio ok praticamente l'unica squadra che ne ha due è la juventus e poi qui abbiamo le nostre plus le nostre card bis che sono quelle di aggiornamento diciamo così per dire abbiamo mario lui bernardeschi e ragazzi io qui ho visto altri spacchettamenti questo team box platinum e praticamente hanno trovato le stesse carte che sto facendo vedere io quindi ragazzi non prendere assolutamente due perché le card plus praticamente sono identiche quelle che poi troveremo queste card nel box che uscirà di tempi supplementari che dovrebbe uscire in teoria a giorni poi abbiamo pedaglia cricces pepe reina escalante della lazio chiriacopoulos del sassuolo magnani dell'ella severona daniel maldini del milan vignato del bologna ansaldi del torino caseres della fiorentina ravaia della samp e di marco dell'ellas verona ragazzi queste sono le card si trovano all'interno e come vi ho detto vedendo altri spacchettamenti di questo team box platinum posso dire posso affermare con sicurezza che praticamente le card si trovano all'interno sono le stesse ragazzi perché ho visto altri spacchettamenti sono identiche identiche come è successo anche con il team box classico va bene ragazzi io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti